Forse non tutti sanno che in quanto a raccolta differenziata l'Italia non è seconda a nessuno tra i paesi europei. Questo è quello che emerge dal libro dello scrittore Antonio Massarutto dal titolo provocatorio Un mondo senza rifiuti. Ma è davvero possibile non produrre più rifiuti? Se ne è discusso a Padova Banca Etica in un incontro pubblico organizzato dall'Associazione Veneta per lo sviluppo sostenibile. Al centro del dibattito l'economia circolare e il sostegno da dare all'impresa per ridurre lo scarto industriale. Si tratta di dare attraverso meccanismi anche legislativi, attraverso nuove tecnologie che vengono studiate, di dare una forte connotazione alla possibilità di sviluppo industriale dei settori che riutilizzano i rifiuti. E anche su questo abbiamo delle esperienze incoraggianti nel nostro Veneto, sulla filiera per esempio delle concerie i cui rifiuti possono diventare fertilizzanti biodinamici per l'agricoltura. Abbiamo una filiera della plastica biodegradabile, abbiamo anche tutta la filiera del riutilizzo del legno che è un altro settore molto importante per il Veneto. Perché la nostra civiltà non finisca per morire soffocata dai propri rifiuti è necessario imboccare una strada alternativa, quella dell'economia circolare appunto, nella quale gli scarti ridiventano materie prima. Se un mondo senza rifiuti è impossibile, un mondo senza discariche è invece del tutto realizzabile, sostiene Massarutto. Esiste un mondo con altri rifiuti, con rifiuti che ci permettono di valorizzarne il contenuto il più possibile, di recuperarlo e soprattutto di azzerare davvero quello che è la forma più dissipativa e nociva che conosciamo, quello del risultato del discarico. Grazie.